Si risolve a cavallo del recupero il derby tra San Lazzaro e Castellana, match clou della settima giornata di promozione Girone D. L'1-1 finale frutta però un punto che scontenta entrambe. Poche emozioni nel primo tempo, al 25esimo Cabroni serve Badalotti, che si aggiusta la palla e calcia in porta. Il tiro però è debole e Lancini para. Nella ripresa è la casta a premere sull'acceleratore. Al 52esimo i goffredesi reclamano un rigore per tocco di braccio su tiro di Gianfi, che l'arbitro però considera involontario. La Castellana insiste e si fa vedere anche al 54esimo, con un tiro di Bravo che termina però fuori dallo specchio. Al 70esimo squillo dei padroni di casa, Badalotti crossa per Gianmarco Alberini, che di testa manda di poco sopra la traversa. All'89esimo i padroni di casa sbloccano il match. Sul piazzato calciato da Rasini la deviazione vincente è di Ferri. Per il centrocampista del San Lazzaro è il quinto gol in campionato. La Castellana non si abbatte e all'ultimo assalto, siamo al 91esimo, trova il definitivo 1-1 realizzato da Orlandini.